Sette interventi per un importo complessivo di quasi 12 milioni di euro sono stati stanziati per la manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori della provincia di Foggia dal Ministero dell'Istruzione, dichiara il presidente della provincia Nicola Gatta. In un momento di grande emergenza con il nuovo stanziamento il governo permetterà alle province di effettuare investimenti che potranno garantire edifici sicuri. Grazie a queste risorse diamo il via ad un piano di investimenti mirati attraverso progetti già approvati e inseriti nel piano triennale dei lavori pubblici della provincia di Foggia per costruire nuove scuole, trasformare gli edifici esistenti in luoghi più sicuri e accoglienti, ecologicamente sostenibili. Gli interventi riguarderanno l'Istituto Alberghiero Lecce di San Giovanni Rotondo, l'Istituto Lecce di Manfredonia, l'Istituto Pacinotti di Foggia, l'Istituto Pascal di Foggia, l'edificio scolastico Derogatis di San Nicandro Garganico, il Liceo Galilei Moro di Manfredonia e l'Istituto Pavoncelli Scuola Agraria di Cerignola.